Monaco non è Europa, però non è neanche più il paradiso fiscale che era una volta, il paradiso fiscale o comunque il paradiso bancario in generale. Per quanto riguarda la regolamentazione bancaria delle banche monegasche, la cosa interessante è che si intersecano tre categorie di fonti diverse, cioè le fonti di diritto comunitario, le fonti di diritto francese e le fonti di diritto locale, cioè di diritto monegasco. Perché c'entra comunque il diritto comunitario? C'entra perché il Principato di Monaco e l'Unione Europea hanno stipulato una convenzione monetaria, la cui versione più recente è quella del 29 novembre 2011, la numero C310, e l'articolo 9, in base all'articolo 9 di questa convenzione, il Principato deve applicare le misure di diritto francese che implementano alcune direttive comunitarie del settore bancario elencate nell'allegato A alla convenzione e in secondo luogo deve adottare, stavolta quindi con provvedimenti propri, misure equivalenti agli atti giuridici e alle norme dell'Unione Europea elencata nel legato B, cioè il pacchetto antiriciclaggio. Quindi, questa la dice lunga, Monaco ha una sua legge interna contro il riciclaggio, ha anche un'autorità per il controllo del rispetto di queste norme. Però tornando invece al nostro tema principale, cioè quello della regolamentazione bancaria, vi dicevo quindi che sulla base di questa convenzione monetaria con l'Unione Europea, il Principato di Monaco dovrebbe applicare le norme francesi che implementano, che hanno implementato una serie di direttive dell'Unione Europea in campo bancario. Tra queste direttive che sono elencate nella convenzione, vi ricordo la direttiva 635 dell'86 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche, la direttiva 49 del 2006 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento degli enti creditizi, ma soprattutto c'è anche la direttiva 39 del 2004, cioè quella che contiene anche le disposizioni MIFID. Quindi, in teoria, Monaco dovrebbe adottare la MIFID in base a questa norma. Di fatto così non è, perché l'articolo 11 della Convenzione precisa che il Principato di Monaco applica queste norme francesi, però limitatamente alle attività e al controllo, cioè applica le norme francesi relativi relativi alle attività e al controllo degli enti creditizi e alla prevenzione dei rischi sistemici nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento e consegna titoli. E a tal fine il Principato di Monaco applica in primo luogo le disposizioni del codice monetario e finanziario francese. Quindi, anche se c'è qualcuno che ha dei dubbi, cioè che secondo qualcuno Monaco dovrebbe in realtà applicare le norme MIFID francesi, di fatto Monaco che cosa fa? L'organizzazione regolamentare prudenziale delle banche la fa regolare appunto dal codice monetario e finanziario francese, quindi ammette che sia regolata dal codice monetario e finanziario francese. Invece le relazioni tra banca e i suoi clienti sono regolate dalla legge interna monegasca. Quindi, indipendentemente da quello che abbiamo appena detto della Convenzione con l'Unione Europea, di fatto oggi la tutela del risparmiatore che apre un rapporto bancario a Monaco è affidata a due leggi monegasche, cioè le leggi 1338 e 1339 del 7 settembre 2007. La legge 1338 è di carattere generale, la 1339 invece è focalizzata sulla disciplina degli investimenti collettivi e sui fondi di investimento. scopo della legge 1338 dal punto di vista della tutela del risparmiatore è quello di istituire regole di buona condotta che si riflettono nella ricerca dell'interesse esclusivo del cliente, nonché nel dovere di consigliare e informare, nonché sulla valutazione delle conoscenze degli investitori e la prevenzione dei conflitti di interesse. Diciamo che quindi sono dei principi che si ispirano ai principi della direttiva MIFID. Tant'è vero che in un provvedimento attuativo di questa legge, è precisamente l'ordinanza sovrana numero 1284 del 10 settembre 2007, le società che esercitano attività bancaria o di asset management, sono tenute a rispettare le regole di buona condotta destinate a garantire la protezione degli investitori e la regolarità delle operazioni e in particolare, recita la legge, le società devono comportarsi correttamente e agire nel migliore interesse dei loro clienti e dell'integrità del mercato, condurre i loro affari con la dovuta competenza, cura e diligenza nell'interesse dei loro clienti e nell'integrità del mercato, assicurare che le persone fisiche sotto la loro autorità, quindi i dipendenti delle società che esercitano l'attività bancaria e finanziaria, abbiano le qualifiche appropriate e competenza e livello sufficiente di conoscenza. Si devono sforzare di evitare i conflitti di interesse e quando questi non possono essere evitati, assicurano che i loro clienti siano trattati equamente. Inoltre, la legge invece, quindi come potete, come avete potuto notare, si tratta di principi molto generali, quindi diciamo che non sono assolutamente, non arriviamo assolutamente ai dettagli della MIFID. La legge invece 1339 del 7 settembre 2007, che si occupa più specificamente dei fondi comuni di investimento, già invece fa riferimento alla possibilità di riservare il diritto di sottoscrivere un fondo di investimento all'investitore cosiddetto informato, investitore Averti in francese, e cioè colui che è sufficientemente esperto da poter valutare i meriti, i rischi e le caratteristiche di liquidità degli investimenti finanziari. Quindi il termine di investitore Averti può essere, diciamo, può essere paragonato in un certo senso all'investitore professionale della MIFID. Però in un provvedimento di attuazione di questa legge del 1339, cioè l'ordinanza sovrana numero 1285 del 10 settembre 2007, sono state inserite delle norme che dettagliano alcuni concetti. E precisamente all'articolo 46 di questa ordinanza leggiamo che a seconda del loro livello di rischio, sofisticazione e liquidità, i fondi di investimento possono essere aperti al pubblico oppure riservati a investitori informati oppure investitori professionali. Quindi comunque vengono distinte due categorie, l'investitore informato e l'investitore professionale. Ai sensi dell'articolo 47, l'investitore informato è una persona fisica o giuridica che ha sufficiente esperienza per essere in grado di valutare il merito, il rischio e le caratteristiche di liquidità degli investimenti. L'importo minimo dell'investimento iniziale in un fondo riservato agli investitori sofisticati è di 10.000 euro. Invece, ai sensi articolo 48, sempre della medesima ordinanza sovrana, troviamo la definizione degli investitori professionali. Sono investitori professionali, ovviamente cosiddetti istituzionali, quindi le società e le entità autorizzate e regolamentate per operare sui mercati finanziari, oppure società che soddisfano almeno due dei seguenti criteri, cioè un totale di bilancio di 20 milioni di euro e un capitale proprio di 2 milioni di euro. Ma soprattutto possono essere considerati investitori professionali anche le persone fisiche, se la loro competenza, esperienza e conoscenza permette loro di valutare il merito e il rischio degli investimenti finanziari e che non hanno come esigenza quella di investire solo in strumenti facilmente liquidabili. Tenete presente che in questa categoria di fondi di investimento che possono essere riservati solo agli investimenti professionali ci sono anche i fondi immobiliari, cioè non parliamo solamente di fondi che investono in strumenti finanziari ma anche in altri attivi meno liquidi. Però l'investitore professionale deve soddisfare anche almeno uno dei seguenti criteri, il valore del portafoglio titoli dell'investitore più i depositi bancari deve superare un milione di euro, oppure l'investitore deve essere stato impiegato per almeno un anno nel settore finanziario in una posizione professionale che richiede la conoscenza delle delle transazioni finanziarie, degli investimenti finanziari. Quando un Enrique nel caso di investimento sottoscritto da un investitore professionale l'investitore deve notificare per iscritto al loro intermediario il loro desiderio di essere trattati come tali e con riferimento poi alla transazione specifica oggetto dell'investimento. L'investimento minimo iniziale in un fondo riservato agli investitori professionali è di 125 mila euro. Ovviamente un investitore professionale è comunque considerato un investitore informato, quindi è un livello superiore rispetto all'investitore informato. Come giustamente poi ricordava Fabrizio la piazza Monegas che in realtà è una piazza finanziaria molto importante però c'è anche da dire che molto spesso l'esigenza di investire in una banca Monegas è legata più delle volte al fatto che la persona fisica si trasferisce nel principato. Quindi almeno nella mia esperienza questo è il caso più frequente che mi è capitato oppure perché la persona ha ereditato un portafoglio di una persona che è soltanto residente nel principato. Perché in caso contrario diciamo che trasferire gli attivi sulla piazza non presenta particolari vantaggi che anzi da un punto di vista fiscale anche se la maggior parte delle persone si trasferisce ovviamente perché la tassazione sulle persone fisiche è nulla, poi succede che scopre delle problematiche che invece non erano state prese in considerazione. È vero quindi che la persona fisica non paga le imposte sulle persone fisiche sui redditi e ritratti degli investimenti finanziari però certe volte può accadere che invece la tassazione può esserci non per merito del principato ma dello stato che emette i titoli. Faccio un esempio, se l'investitore ha acquistato dei titoli emessi da società svizzere per esempio delle azioni noi sappiamo che la svizzera applica una risonata del 35% sui dividendi in uscita. se l'investitore si è trasferito nel principato non c'è una convenzione che consente una limitazione di questo prelievo quindi se la persona fisica prima era invece residente in Italia, in Italia invece grazie anche agli accordi convenzionali che ci sono con la svizzera riesce invece ad avere una tassazione una tassazione inferiore e così come un'altra cosa che forse è poco nota a livello fiscale è che il principato applica un'imposta di successione ai parenti diversi da padre figlio o coniuge quindi anche questa è un qualcosa che è capitato che alcuni miei clienti l'hanno scoperta con grande sorpresa e quindi anche questo è un qualcosa che non fa sicuramente di Monaco un paradiso fiscale.